Ciao a tutti e speriamo che questo video che ora vedrete, vi piacerà, vedrete cose epiche, tipo le matine che ci ammazzano in due secondi, però non è che cadono, però stavano per cadere nei mati, abbiamo fatto molte cose e niente, ciao, buona visione! Ciao amici, vi venite in questo nuovo video, oggi è... non so che... Ciao a tutti! In questo nuovo video, che è un vlog, perché l'Elisa e l'Emma vengono da casa mia, perché dobbiamo fare l'intervista doppia di me e l'Emma e tra un po' di giorni uscirà quattro dell'Elisa ed è l'unico, quindi sperando che vi ad un piacerà, io sono a casa di Emma e ho l'idea. Stiamo registrando con la macchinetta fotografica, quindi non so quello che sto registrando, non so come sta uscendo, non so se esce bene, quindi ci vediamo dopo, ciao! Allora, ciao a tutti ragazzi, siamo arrivati a casa della Matilde, mi sto guardando lo specchio perché stiamo filmando con la mia telecamera che non c'è lo specchio che si gira. Ok, i problemi, e appunto, guardate, non c'è il robot che si gira, cioè è una telecamera così, però non si gira lo schermino. E oggi filmeremo un video, cioè faremo un video che non vi dico perché sarà una sorpresa. e niente, tra poco arriva l'Elisa, a che ora arriva l'Elisa? Mezza 3 credo. Due e mezza 3, via che c'è la mia, custodia. E niente. Custodia, la tua custodia. Ciao, ci vediamo dopo. Laga, è arrivata Elisa. E' l'Elisa, è l'Elisa. No, Ema, non posso scegliere con ste calze. Sì. Ema, mamma mia. E' arrivata. Tanto lei mappa le cose per terra. Ok. Ciao Elisa! Uuuu, come qui? Quanto ti do? 10! E' 10! Vecchia. Ceria. Ma che... Ma che... Ma che... Che stanno riprendo io? Ehi, io non ho la sacchetta. A boh... Ma... Ma scusatemi, e' s'ha registrato. Questa qua è la manubra! Dai! Raga, guardate. Dai, lo schifo. Questa qua è il mio cane. Allora Allora Io apri un posto Backstage del video Che uscirà Non si sa quando Tra poco Magari uscirà tra un mese Tra un mese non lo sappiamo E ora forse potete intuire qualcosa Da questo sfondo Faccio ridere Lisa Allora abbiamo finito Di fare Il video ci avevamo messo Poco E ancora uscirà prima Questo vlog Sì Sicurissimo Perché allora Tra poco Uscirà lo speciale dei 300 Prima Uscirà questo vlog Poi uscirà lo speciale dei 300 Poi uscirà questo Sta mangiando i ghiaccioli Che sta facendo Matilde Che sta facendo Che ha fatto Matilde Aspetta devo appoggiare due secondi qua dentro Per girare Qua c'è Elisa Che mangia anche lei Qua c'è Matilde E qua c'è uno ghiacciolo E viste la sabbia cavallo Sì La sabbia cavallo Sì la sabbia cavallo Mi fa voler morire Mentre guardiamo Il weekly vlog Di Pernilla C'è una tizia Che si fa il latte Alle Alle 3.36 Ti sembra una cosa normale? Cosa ne pensa? Penso che è un po' storta Ma non è di orari Ma Seguite Cresce da qua l'acqua Se io faccio così Allora adesso Stiamo Andando in cartoleria A vedere A vedere se vendono Una cosa Delle caramelle Che fin Che vorremmo Che se le vendono Faremo una Challenge Se ci sono Faremo una challenge Ora andiamo E forse vedremo La caduta di Matilde Ed Elisa In bici Aspetta Quante british Sei pazza Quella che dovete C'è la Matilde Poteva usare questa Che è la sua E l'Elisa Poteva usare questa C'è ragazzi I problemi Di Elisa Landro No no E tra 3 2 2 1 Pameli Ho quello che metti In testa Per la gopro Pure io Possiamo usarlo Per cavallo L'ho già usata Però non Non ho usato La fascia Forse alcuni di voi L'hanno già visto Questo vlog Ero con Joy Avevo la gopro Attaccata al canto Era uscito bene Perché era rovinata La fotocamera Però forse Alcuni di voi L'hanno visto Commentate con Si l'ho visto No seriamente Commentate con Si l'ho visto Se l'avete visto Questo vlog Perché era bellissimo Poi ero fissa Con la canzone Di Despacito Infatti ho fatto Un vlog Eccola qua Con Joy Allora Ora vediamo La morte In diretta Di Elisa Landro E Matilde Marras Le potrete Vedere Stasera Sullo TG5 È avvenuta La morte Di La 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 Sì Non vi Precuvate Intanto Ci sono Due Persone Io Non vi Aiuto Guarda Gira La Macchina Voglio Vedere Dove Dove Frenate No 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 Non Gira La Ci abbiamo Dietro Una Macchina Credo No Scherzo Siamo Contromano Anche Così Siamo Contromano Però Ok Qua la Gente Ci guarda Un po' Strano Perché Non Riesco Così Vieni Da Questa Parte Mati No Ora Io Sto Accendo La Strada Per Andare Loro Credo Che L'allungheranno Quindi Non So Dove Sono Sono Di Qua Stiamo Andando Alla Cop Perché Non Ce Le Raga Così Sfama Così Sfama Va bene Elisa Comunque Non sono Due persone Loro Sono Qua Dentro Dentro Al Cotto Io Sto Tenendo Curare I Becci Anche Se Vorrei Fare L'Itico Uno Scherzo Ma So Che Si Arrabiano E Niente Aspetto Che Loro Escano Mentre Io Faccio La Scima Qua Fuori Sei Metola Eh Non lo so Bisogna Guardare Chiudilo Chiudilo Perché C'è L'acqua Noi Abbiamo L'aceto Noi Abbiamo Finito Qua Ok Adesso Per Infraversarsi Un po' La Bocca Chiaccioli Sai che Mentre In bocca In bocca In mano Scusami Guarda che testino La lingua Non sto scherzando Ma è piaciuta La città Ma Anche a me Un po' Tipo Ma Rimane appiccicata La lingua Noi No Noi Mai Eh Ma il ghiaccio Vedi Anche a lei Allora Noi ci vediamo A un prossimo video Un prossimo video Iscrivetevi Lasciate like Commentate Ditemi se avete visto il video Con il video che vi sto facendo Ciao